Oggi a NOS TV parleremo dell'arrivo del nuovo direttore di farmacia ospedaliera all'ULS 4, dell'assemblea dei sindaci del Veneto orientale e dello spettacolo che si terrà questa sera con Vittorio Sgarbi al Teatro Luigi Russolo di Portogruaro. Questo e molto altro a NOS TV. Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova edizione del TG di NOS TV. Iesolo potrebbe essere la prossima spiaggia smoke free del Veneto. Sulla scia delle tante segnalazioni richieste espresse all'amministrazione, il sindaco Valerio Zoggia ha incontrato questa mattina i componenti dell'OGD, Organismo di Gestione della Destinazione, invitando ad una riflessione sulla possibilità di introdurre sul litorale o in alcune parti un divieto di fumo. Il tema sarà discusso nelle prossime settimane assieme alle associazioni di categoria della città per valutare la fattibilità della proposta per essere poi riportata in seno all'OGD in occasione del prossimo tavolo di lavoro. L'argomento è molto sentito dall'opinione pubblica e diverse spiagge italiane hanno già seguito la filosofia dello smoke free sui loro litorali, creando al contempo delle zone dedicate ai fumatori. L'obiettivo è duplice, tutelare la salute delle persone e salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento dei mozziconi abbandonati sulla spiaggia. Torniamo ora ad occuparci dei danni causati dagli eccezionali fenomeni atmosferici di novembre, perché ieri ad Eraclea si è riunita la conferenza dei sindaci della costa veneta. L'occasione ha permesso al commissario prefettizio di Eraclea, Giuseppe Vivola, di fare il punto sull'elevata conta dei danni al patrimonio pubblico e privato provocati dalle mareggiate. Ascoltiamo il servizio. Ammonta a 5 milioni di euro la conta dei danni provocati dall'eccezionale ondata di maltempo di novembre al patrimonio pubblico e privato del comune di Eraclea. La cifra record è stata per la prima volta evidenziata ieri dal commissario prefettizio Giuseppe Vivola nel corso della riunione della conferenza dei sindaci del litorale Veneto che si è tenuta a Camanetti. I danni maggiori li hanno subiti le spiagge dove la forte erosione rende necessario un urgente ripascimento e le difese a mare pesantemente colpite dalla furia delle onde. Danni anche nella darsena della frazione di Torre di Fine. La riunione della conferenza dei sindaci della costa Veneta ha poi permesso ai primi cittadini di formulare una serie di richieste alla regione Veneto a tutela delle località e degli operatori del litorale messi in difficoltà dagli eventi meteomarini. Tra queste spiccano senza dubbio la richiesta di sospendere per due anni i canoni demaniali e l'autorizzazione ad aumentare da 20.000 a 50.000 metri cubi la quantità di sabbia che può essere trasferita da una stessa spiaggia per agevolare i ripascimenti. Da non trascurare anche l'ulteriore istanza dei comuni costieri di considerare finalmente il legno spiaggiato non più come rifiuto speciale ma come biomassa. Il 1 febbraio all'Ulss 4 prenderà servizio il nuovo direttore dell'unità farmacia ospedaliera, il dottor Alessandro Dorigo, 50 anni di mestre. Dorigo si è laureato in farmacia all'Università degli Studi di Padova dove ha conseguito anche la specializzazione in farmacia ospedaliera. Il suo percorso formativo include anche un master universitario in manager dei dipartimenti farmaceutici, un corso di perfezionamento nella gestione della farmacia ospedaliera svolto all'Università Lewis di Roma e un training all'ospedale di Boston negli USA. La sua carriera lavorativa è iniziata nel 98 all'ospedale di Conegliano per passare poi nel 2000 alla farmacia ospedaliera dell'ospedale di Mestre dove nel 2009 è stato nominato vice direttore di unità operativa e nel 2010 responsabile dell'area galenica clinica. Due fiere con un solo obiettivo, far conoscere lo straordinario spettacolo della natura, valore aggiunto della vacanza al mare della costa Veneta. Venice Sense, il brand che raggruppa tutte le località turistico-balneari del Veneto, sarà presente a due importanti appuntamenti fieristici che promuovono l'uso della bici. Si tratta di Itinerando, che si terrà a Padova dal 31 gennaio al 2 febbraio, la manifestazione volta a promuovere il turismo esperienziale. L'alternativa a quello di massa, che punta a regalare emozioni al viaggiatore. Quindi Cosmo Bike Show Verona Fiere, in programma dal 15 al 16 febbraio, festival dedicato al mondo del ciclismo. Cosmo Bike Show 2020 può diventare un evento strategico per l'economia e la diffusione della cultura della bicicletta, uno strumento per rispondere alle esigenze delle aziende e al crescente interesse del pubblico, nonché un momento di promozione del territorio veneto da sempre in prima linea nello sviluppo del prodotto, dedicato al mondo della bici. L'assemblea del Consorzio si è riunita ieri pomeriggio nella sede di Sandona di Piave per la convalida degli eletti del voto dello scorso 15 dicembre e per il rinnovo delle cariche. Al vertice dell'ente è stato riconfermato con grande maggioranza Giorgio Piazza. Gli altri membri del CDA sono Andrea Colla, la vicepresidenza, Roberto Scarpa e Andrea Pegoraro. Al termine della riunione, il presidente rieletto ha tracciato le linee programmatiche dell'attività del Consorzio per questo quinquennio, in continuità con i buoni risultati conseguiti nel precedente mandato, fissando degli obiettivi ancora più ambiziosi in materia di lavori ordinari e straordinari, di riorganizzazione dell'ente, sostenibilità idraulica ed ambientale, sviluppo della valenza comunicativa e scientifica del Festival della Bonifica per giungere alle celebrazioni del centenario del congresso di San Donà del 2022, consapevoli di prepararsi a nuove sfide. Vittorio Sgarbi torna a teatro con un nuovo grande spettacolo dedicato a Raffaello. Lo farà questa sera a 30 gennaio 2020, alle ore 21, presso il Teatro Comunale Luigi Russolo di Portogruaro. Raffaello è il nostro più grande pittore, un filosofo, un sistematore di idee, e come se Dio fosse nel suo pennello. Il maestro di Urbino è considerato uno dei più grandi artisti d'ogni tempo. La sua opera segnò un tracciato imprescindibile per tutti i pittori successivi e fu di vitale importanza per lo sviluppo del linguaggio artistico dei secoli a venire. L'associazione culturale La Ruota compie 15 anni e festeggia questa tappa della sua storia con un recital, parole e musica, che vede la partecipazione della pianista a Lucrezia De Vecchi e del tenore Michele Minuzzo. Il programma della serata comprende leader e aria d'opera e spazio dal 700 al 900, arriva sfiorandolo al 900. Il concerto vuole essere un momento di festa, un omaggio, un ringraziamento a tutti quelli che in questi anni ci hanno sostenuto e accompagnato. Questo è l'ospicio, che continueranno a farlo. E questa era la nostra ultima notizia. Vi ricordiamo che Nosti TV è disponibile su Facebook, Instagram, YouTube e sul canale Il13 premendo il tasto 13 o 605 del vostro telecomando. Vi ringraziamo per essere stati con noi. Arrivederci.